Marcia a piedi invasi da rifiuti, differenziata, non raccolta. E questa è la situazione che sta vivendo Melito da qualche giorno. Alcuni punti della città vivono situazioni critiche come l'area adiacente, la casa comunale della cittadina a nord di Napoli, la zona retrostante, la metropolitana di Giuliano o ancora via Roma e alcuni punti periferici della città. Nei cumuli c'è di tutto e ormai è sparito il rifiuto differenziato. Plastica, umido, cartoni, ingombranti, vecchie cucine e materassi, tutto in un sol posto. Con il caldo però la situazione è ancora più grave. La puzza inonda le abitazioni circostanti, soprattutto nelle aree critiche e di giorno come di notte l'aria è irrespirabile. Proprio nelle ultime settimane c'è stato il passaggio di cantiere tra la vecchia e la nuova ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città. E questo, fanno sapere dall'amministrazione comunale, ha creato rallentamenti. Con i quantitativi ordinari non riusciamo a rimuovere tutti i rifiuti accumulati, dicono. Per questo abbiamo chiesto alla Sapna dei dispositivi di scarico supplementari. Dunque, mezzi in più e possibilità di scaricare maggiori quantità in modo da smaltire l'accumulo di giorni e giorni. Grazie.